Benvenuti nella Green News di marzo. Cosa c'è di nuovo? E cosa ci aspetta il prossimo mese? E la Isian vi accompagna per scoprire le notizie più importanti del mese passato e per scoprire gli eventi del mese che verrà. Le fiere stanno tornando e gli eventi in presenza daranno un nuovo colore a questa primavera. Per quanto riguarda invece i finanziamenti, ci sono i fondi per contratti di fiera e di distretto, infatti il CIPES, Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha dato il via libera all'assegnazione di 900 milioni di Euro finalizzata la copertura del contributo per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. Complessivamente verranno erogati 1,2 miliardi. Il bando per usufruire dei fondi dovrebbe essere pubblicato entro marzo e ci sono anche altri settori interessati tra i quali l'agrisolare, l'innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e sistemi irrigui. Una notizia importantissima relativa all'axilella, Zellus può controllare forse gli invetti vettori del batterio. Come sappiamo l'axilella fastidiosa viene diffusa per mezzo di insetti, cosiddetti vettori, in particolare le cicaline sputacchine, Filenus Pumarius, che sono il vettore principale. Ad oggi si utilizzano tecniche per lo più agronomiche per ridurre lo sviluppo dell'adulto. Recentemente su Insects, una rivista scientifica, è stato pubblicato questo studio, che è stato condotto dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari, in collaborazione con molte altre facoltà internazionali. Zellus Renardi, questo è il nome, è originario del Nord America e ormai attacca tutta Europa. Attacca varie prede e tra cui c'è anche la mosca dell'olivo. Generalmente attacca una preda all'ora per i primi 6-8 attacchi. Dopo però non si cibba più delle sue prede, ma continua ad ucciderle e questo è utile perché è un metodo di lotta pressoché continuo. Le prede devono essere mobili e di grandi dimensioni per compensare le spese energetiche. Il programma di controllo si basa su metodi di più controllo inondativi, con diffusione di molti esemplari, infatti lanci puntuali con pochi esemplari non sono efficaci. Un'altra caratteristica essenziale di Zellus è che non attacca le api e questo è fondamentale per la biodiversità. Cosa succederà nel prossimo mese? In realtà cosa è già successo? La 115esima edizione di Fiera Agricola, che doveva essere dal 26-29 gennaio, è stata spostata tra il 2 e il 5 marzo e ha avuto eventi legati soprattutto a rassegni internazionali B2B, business to business. I temi affrontati, gli strumenti e i macchinari in esposizione sono stati legati trasversalmente in diversi ambiti agricoli. La meccanizzazione, la zootecnia, il vigneto e il frutteto, la chimica verde, le rinnovabili, la convegnistica e la formazione. Tutto questo per continuare a guardare ad un'agricoltura come un settore in piena crescita e che necessita delle giuste tecnologie per evolversi. Grazie e ci vediamo alle AgriNews del prossimo mese.